È iniziata questa sera la terza edizione. Sì, questa sera la terza edizione di questa manifestazione che è un intrattenimento per il Paese. Speriamo che quest'anno il tempo inizi ad essere bello perché le ultime due edizioni sono state fatte sotto la pioggia. È tutta birra, è un modo di stare insieme. Ci sono vari tipi di birra, locali, estere, bavaresi, belghi, italiane. E più è un po' di ristorazione, tanta musica, tanto liscio, tanta musica d'ascolto, ma abbiamo anche per le tre serate quattro orchestre. Se l'intrattenimento per i bambini, giochi per i bambini, con l'associazione Tiremulla, come Prolocofano, anche loro sono dell'associazione come siamo noi. Quindi vi aspettiamo da stasera fino a domenica sera al Parco Domenico Ricci di Cucurano.